Rosy saluta è il mio love bond mi sta facendo il video ma non c'è un grande oh Rosy perché ti faccio il mio cane? poce, poce, devi correre armelo come è che sei là? ti tiro le mani vedi qua Rosy, te fai questo sono più belle queste Rosy, questo ti ha preso Rosy uno Rosy, per me non sono più belle guarda sì non sono più belle queste di queste no, no, no noi non ci si può vediamo questa vai Alessia, pronta piano questo è fino a 5 uno no, no, fino a 50 uno, due, tre, quattro, cinque pure io, pure io l'ultimo, dai pure io, Rosy Rosy Rosy, pure io, dai non si, non sta più aere no, non ci sei aere non qua ce la vai? sì vai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.